Mi spiace partita. Cosa stai facendo bambino? Sistema i colori rapidamente, ormai è tardi. Cosa hai da dimostrare, da mostrare Letta? Due progetti di scienze. Due progetti di scienze? Sulle leve. Fatti da sola? Le hai fatti da sola? Uno sì, l'altro no. Ok, va bene. Uno quasi sì e l'altro quasi no. Uno sì e uno quasi no. Ok, e uno quasi sì e uno quasi no. Va bene, d'accordo. La modestia no. Va bene. Che ore sono? Le 23 e le 20. Auguri. Ok. Vuoi mostrare queste cose per favore al pubblico, velocemente? Vabbè, dopo lo fai. Allora, mostra gli oggetti. Questo è il quasi no. Il quasi no, come il quasi no? Spiega che cos'è. Allora, vedo che era un progetto sulle leve, perché si scassi montando. No, no, lascialo così, toccano il meno possibile la cosa migliore. Ok, basata su cosa? Vediamo un attimo più veloce. Il principio delle leve. Muovilo un attimo così. Aspetta eh. Tienlo bene? Si, si vede benissimo. E hop. Ok. E hop. Ok. E risa. E risa. Probabilmente è una cannuccia. Si. Collegata con una graffetta tutta piegata. Si. Fatta da lui. Fatta da lui? Chi è lui? Lui è il regista. Il regista, va bene. Piegata diversamente. Quindi va qui e dopo qua. Quindi si può piegare anche così, però c'è il rischio che si spezzi. Ma invece no. Sono tutte leve? Quale leve sono queste? Di primo genere, perché qua c'è il fulcro, qua c'è il braccio della potenza e qua c'è il braccio della resistenza. Ok, i bracci sono uguali? Si, i bracci sono uguali perché... Quindi è una leva di primo genere? Indifferente. Ok, perfetto, benissimo. Questo è il primo oggetto. Il secondo oggetto? E questo è quello quasi no. Va bene. Che ci ha dato tante di quelle pene. Si. Ah, 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 quella fatta. Attenzione a non piantarti. L'hai già fatto? L'hai già fatto? Ok, questo che cos'è? Allora, qui si sta asciugando perché abbiamo messo la talla, però è un galletto che devi mangiare, no? Ok, cosa fa? Ah, ok. Leva, gnam, leva, gnam, leva, gnam, leva, gnam, leva, gnam, leva, gnam, leva, gnam. Ok, va bene. Questi li hai disegnati tu. Mostriamo bene i galletti. Galletto numero uno. Lasciamo perdere i galletti. Galletto numero due. Questo è il più brutto. Questo è il più bello. Ok, salutiamo. Andiamo a dormire. Eh, ma bisogna far saluto. Non c'hai sonno o non hai sonno? C'hai sonno. C'hai sonno. Ciao, ciao con la manina. Buonanotte. Buonanotte. Guardando negli occhi, per favore. Ciao. Ok. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.